E' stato inserito in Italia tra gli otto progetti più significativi di rigenerazione urbana per l'edilizia popolare. A deciderlo è stata l'Alta Commissione per la Qualità dell'Abitare e il progetto è quello presentato dal Comune di Terramo per la riqualificazione di Via Longo, un intervento atteso ormai da vent'anni e nel quale nessuno sperava più. La Commissione, che ha esaminato e valutato tutte le proposte pervenute per accedere ai finanziamenti previsti dal PNRR, ha deciso inoltre di presentare gli otto progetti davanti al Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini il 13 aprile al Maxi di Roma, evidenziandone il particolare pregio architettonico e sottolineando come prospettino soluzioni in chiave integrata e sostenibile. Il valore del progetto Terramano, già ammesso a finanziamento, è di 15 milioni di euro. L'intervento, il cui obiettivo è di creare spazi pubblici di qualità attorno ad una nuova piazza urbana, prevede la demolizione e ricostruzione di quattro degli attuali fabbricati, la ristrutturazione degli altri due palazzi, la creazione del collegamento pedonale al polo scolastico, la connessione ciclopedonale con il parco fluviale del Vezzola e un percorso ciclabile. Per il Comune di Terramo si è trattato di un importante riconoscimento che lo vedrà a Roma insieme ai comuni di Genova, Cuneo, Milano, Mantova, Roma, Bari e Corigliano Rossano, selezionati per i rispettivi progetti presentati a finanziamento. Progetti che portano la firma di nomi di rilevanza internazionale nel panorama dell'architettura, come Massimiliano Fuxas, progettista dell'intervento del Comune di Bari. L'appuntamento al Maxi sarà l'occasione, ha dichiarato il sindaco di Terramo Gian Guido D'Alberto, per evidenziare i punti di forza dell'intervento che finalmente dà una visione complessiva dell'area di Via Longo. L'impronta sarà sociale, con l'intero complesso che resterà di edilizia residenziale pubblica. Un ringraziamento particolare, conclude D'Alberto, va al progettista, l'architetto Paolo Desideri.